Listen to me. Milano e le sue case museo in un podcast. Dove vuoi, quando vuoi. Un percorso a più voci con 21 ospiti d'eccezione per un viaggio imperdibile tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura. Milano dai vorticosi pensieri. Dove le mille allegrie muoiono piangenti sul naviglio. Così cantava Alda Merini, la più celebre poetessa milanese, simbolo di una vita difficile, dentro e fuori dai manicomi, eppure terribilmente intensa. Una donna simbolo di una vita estrema. Come estremi erano i navigli, sede di povertà e poesia al tempo stesso, dove intellettuali impegnati convivevano con trattorie a poco prezzo, piccoli criminali, e le chiatte che portavano tonnellate di sabbia da costruzione fino alla darsena. La stessa Alda Merini era un simbolo di questa vita di confine tra normalità e disagio, eppure capace di punte ed intensa poesia. Una donna a cui i navigli hanno voluto rendere omaggio, trasformando la tabaccheria da lei frequentata, in un centro culturale a lei dedicato, lo spazio Alda Merini, in cui è stata ricostruita la sua stanza da letto, come ci conferma Antipansera. Questa poetessa, dalla storia molto intricata, difficoltosa, che viveva in ripa di Porta Ticinese, ma la sua casa museo è stata rimontata, completamente smontata e rimontata, diciamo così, in via Magolfa 32, e su due piani noi possiamo andare a visitare questa casa e prendere contatto, un contatto anche molto particolare, con le cose, le poesie, i cassetti con dentro i rossetti, diciamo così, di questa poetessa che ovviamente mi piace ricordare ed è importante che tutti la ricordino. Manzoni è chiaro, no? Alessandro Manzoni, i promessi sposi, mentre invece per quanto riguarda Alda Merini è tutto un altro discorso, ma penso che anche i giovani possano, e chi viene dall'estero, possano andare a scoprire un cotè molto particolare della nostra letteratura e della nostra poesia. Le poesie di Alda Merini hanno conosciuto una straordinaria fortuna, al punto di farla definire da Alberto Rollo, scrittore, una poetessa pop. Con Alda Merini ho anche scritto delle cose, in realtà Alda Merini, sì, c'entra con Alda Merini, ma è una poetessa pop, veramente, gli si può solo fare un piacere definendola pop, perché ha fatto della sua icona esistenziale un manifesto e l'ha trasformato in una poesia che con tagli e livelli di qualità molto diversi, però quando sono alti incide, incide notevolmente, incide in quel senso lì che si lascia interpretare come donna, come madre, come presenza all'interno del mondo letterario milanese, disturbato e disturbante. E questo va tutto a suo merito. Come Alda Merini, anche i navigli sono da sempre un'area del pop, nel senso sia di popolare in passato, addirittura di malfamato, sia di pop nel senso di un mix tra sofisticazione e sguaiatezza, che può urtare, ma difficilmente lascia indifferenti. I navigli popolari nascono dall'essere stati fino agli anni 70 a un porto, il principale porto fluviale di Milano. E come tutti i porti, i navigli erano un mondo di trattorie economiche, piccola delinquenza e studenti a caccia di case a poco prezzo. Quest'anima popolare è rimasta nei ricordi di tanti milanesi e non. Ad esempio, François Bertout, grande illustratore di moda, ricorda la sua giovinezza nelle trattorie dei navigli. Di fronte al mio studio in via Torricelli c'era una lateria dalla Maria, che era un posto eccezionale, mitico. La Maria era un tipo incredibile. Lei e il marito, lei cucinava a pranzo, si andava sempre a mangiare, ci preparava delle quantità di cibo mostruose. Parlava milanese, si inventava, diceva delle cose mai sentite prima nel suo milanese inventato, oppure si ricordava di certi modi di parlare, divertentissimo. E dava sempre da mangiare gratis ai marocchini. C'aveva qualche marocchino che li portava in cucina e mangiavano o gratis o poi raccoglieva i vestiti, raccoglieva le cose. Quindi da un lato era lì sempre che si lamentava da buona milanese, però dall'altra poi ha un cuore così. Oggi i navigli sono divenuti una delle aree più frequentate dai turisti e dai giovani milanesi, con tantissimi locali che a volte rischiano quasi di soffocare l'aria, come ci conferma lo scrittore Stefano Bartezaghi. Ho visto come si è animata la scena del naviglio, si è progressivamente animata ed è diventata appunto, si è anche un po' più dedicata a queste altre attività. E ora sto attento a non andarci che quando c'è poca gente, insomma. Perché ora a volte viene proprio l'agorafobia, quella da densità, perché c'è anche un'agorafobia da vuoto. Io patisco un po' entrambe, ma delle due preferisco quella del vuoto, perché appunto no, mi fa piacere che ci sia una zona così animata, ma non fa forse più per me. Invece la cosa che avevo poi scoperto era l'aldiquà della Darsena, dove ho vissuto molto molto a lungo, gli anni poi centrali, che è anche quella appunto è una zona che ho visto proprio cambiare. L'ho vista proprio cambiare. Da via Arena, dove abitavo io, dove ho abitato a lungo, per andare a prendere la metropolitana a Sant'Ambrogio, raramente passavo da vie in cui poi ho abitato, perché erano vie pericolose. Gli anni 90 erano ancora vie pericolose. E lì invece hanno avuto una trasformazione curiosa, perché è proprio cambiata la popolazione, ci sono state sistemate un po' di cose, ma non c'è stato un riverniciamento, una riverniciatura forse meglio. Sono così, si è mantenuta una certa identità e si è mantenuta anche un certo miscuglio tra ceti sociali diversi, ma diciamo quella cosa di pericolo, di malavità, non c'è più. Ma i navili nascondono lembi di bellezza e di poesia, come il glicine che si abbraccia sul cortile dello spazio Alda Merini, o come certi piccoli centri culturali nei vicoli da cui possono improvvisamente uscire le note di un concerto jazz. O ancora le due librerie che si fronteggiano sul Naviglio Grande, su una sponda Libri senza data, dove trovare rare edizioni di libri antichi, e sull'altra Il Libraccio, da sempre meta di studenti alla caccia dei libri usati per risparmiare. Le due anime, intellettuale e popolare, qui sono fortemente riconoscibili, più che in altre zone di Milano, in un rapporto continuamente dinamico. Oggi la Darsena, ad esempio, ospita continue manifestazioni sportive e notturne, ma una targa ci ricorda che qui abitava Elio Vittorini, uno dei protagonisti della vita intellettuale milanese del dopoguerra, l'autore di Uomini e No, romanzo duro e spietato sulla Milano sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale. L'area dei Navigli è facilmente esplorabile a partire dalla stazione Linea 2 per Porta Genova. La nostra passeggiata letteraria finisce qui. Non togliere le cuffie, ci sentiamo al prossimo itinerario moda per scoprire volti inediti della Metropoli, capitale internazionale dell'eleganza. Per ascoltare i prossimi episodi, seguici sulle tue piattaforme preferite o visita il sito www.casemuseo.it dove potrai anche acquistare la card per visitare il Museo Bagatti Valsecchi, Villa Necchi Campiglio e il Museo Pol di Pezzoli a prezzo scontato. Casa Museo Boschi di Stefano è gratuita. Grazie per la visione!